Dopo il pareggio di Monopoli, il quarto in altre tante gare, l'Avelino di Piero Braia è tornato in campo per la ripresa degli allenamenti. Nel Mirino la sfida di domenica pomeriggio ore 14.30 contro il Potenza di Fabio Gallo. Qualcosa di positivo rispetto alle ultime uscite stagionali comincia a vedersi, ma tutto ciò non basta. L'Avelino deve ritrovare la vittoria che fin qui ladita. Al ritorno in campo, l'occhio dello staff tecnico è stato certamente rivolto a Claudio Migoschi. Il laterale rumeno continua il suo percorso di recupero dopo la lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra. Il classe 1999 ne avrà ancora per una settimana. Le speranze professate da Braia nel post Monopoli resteranno in attese. Da monitorare anche le condizioni di Genaro Scognamiglio fuori dalla lista dei convocati per Monopoli per il continuo problema alla caviglia. Sarà della partita invece Carriero che ha scontato il turno di squalifica contro i bianco-verdi di Buia. La settimana che condenerà alla sfida con il Potenza tornerà utile anche per ricucire lo strappo tra il tecnico Toscano e Andrea Sbraga. Quest'ultimo lasciato fuori dopo la prova in colore offerta nel match di Coppa Italia contro l'Ancona Matelica. Alle porte c'è un doppio match casalingo da non falire. Prima Potenza, poi Catanzaro e da qui che deve cominciare il vero campionato dell'Avelino. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.